Ce l'ho fatto! Ohhhh! 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 Che bello, bello, bello! Il balo fatto con quell'occhio sempre occhiolino degli indiani che hanno quel senso di gurismo fantastico, fanno le cose a perfezione ma c'è sempre il spazio per quel sorriso. Avete catturato proprio quella cosa lì che è super Bollywood. Bravissimi! Grazie di cuore! Oi, hero! So you think you can dance, eh? Molto raro pensare che la cultura è talmente differente come loro sono riusciti ad entrare nella... È vero! Ma mi ha convinto quella cosa che ho... Eh, io buzzerei sempre. Peccato che al Golden Buzzers c'è solo uno all'altro. Vero? Ah, sì. Dio... 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 Grazie.